Un traguardo né semplice né scontato, un passaggio storico che dà una vera svolta alla Fano Grosseto. Il governatore Francesco Acquaroli e l'assessore all'infrastrutture Francesco Baldelli hanno annunciato così le novità per l'opera marchigiana nota come l'incompiuta delle incompiute. Documenti alla mano, in conferenza stampa sono state ripercorse tutte le tappe, gli incontri a Roma e l'importante risposta è arrivata il 13 aprile scorso, quando il Ministero ha autorizzato l'anticipazione delle risorse per la progettazione della seconda canna della Guinza e per il completamento a quattro corsie della E78 fino a Mercatello Ovest. Questo, ha sottolineato Acquaroli, significa che tra tre anni, quando avremo il progetto esecutivo, non dovremo aspettare un altro accordo di programma perché avremo subito la possibilità di finanziare il cantiere dimezzando i tempi. Dopo oltre 30 anni, ha giunto il Presidente, verrà ridata dignità a quest'opera strategica per i collegamenti e sulla Guinza ha detto è come se buttassimo giù un muro tra due realtà che porterà benefici sia per quanto riguarda i servizi sia per il commercio e il turismo. Da una prospettiva a quel tratto della Fano Grosseto, ma a quei territori in particolari, molto positiva nel breve tempo. Un breve tempo che, chiaramente trattandosi di un'opera molto importante, presuppone comunque una progettazione che dura mesi e anni e un cantiere che potrà vedere la luce appunto fra qualche anno. Ma parliamo di un'opera economicamente molto rilevante e che rappresenta uno snodo cruciale per la realizzazione della Fano Grosseto perché questa opera da sola cuba qualche centinaio di milioni di investimento. Con la riapertura della prima galleria e la realizzazione della seconda, Marche, Umbria e Toscana si collegano molto più velocemente. Poi chiaramente è un presupposto per vedere realizzata finalmente la Fano Grosseto. Nel dettaglio, come ha spiegato l'assessore Baldelli, a sbloccare il progetto a quattro corsie è stato uno studio richiesto dalla Regione ed eseguito dall'Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti. Infatti è emerso che un'arteria a due corsie sarebbe obsoleta già prima di essere realizzata perché porterebbe ad una saturazione di traffico del 92%. Lo studio quindi ha smentito quelli effettuati precedentemente da Anas e ha dimostrato che, considerando l'incidenza con la bretella Fabriano Fossombrone e con quella che collega la Carpegna Sant'Angelo Invado, il traffico della Fano Grosseto non sarebbe di 6.000 mezzi per senso di marcia ogni giorno, ma di 26.500 veicoli. Inoltre, grazie alle quattro corsie e alla realizzazione delle due bretelle, il traffico pendolare nella Regione potrà diminuire, ha spiegato Baldelli, di 115 milioni di chilometri all'anno. Per fare un paragone, ha detto, si farebbero risparmiare agli automobilisti che percorrono i nostri territori circa 2.870 giri della terra all'anno. Abbiamo ottenuto anche una progettazione che tecnicamente non si dice più C1, quindi una strada che ha delle caratteristiche geometriche di larghezza di 10,50 metri, ma andiamo a progettare una B, o quindi una superstrada, che poi verrà realizzata a stralci lungo il percorso, a seconda ovviamente delle risorse disponibili, perché l'investimento è rilevante. Ma le marche hanno ottenuto finalmente il riconoscimento, sul quale negli ultimi decenni, o almeno nell'ultimo decennio, non si era lavorato, di ottenere una vera superstrada che colleghi il mare Adriatico al mar Tirreno, Trafano e Grosseto. L'8 maggio, proseguito Baldelli, si concluderà la conferenza di servizi tra Regione Anas e gli altri enti coinvolti. Dopodiché si potranno vedere i mezzi all'opera sui lotti 2 e 3, cioè quelli che collegano le marche all'Umbria. L'Umbria poi si proseguirà con la progettazione e la realizzazione dei tratti restanti fino al completamento della superstrada. La Regione Marche sta lavorando anche sulle bretelle, che giustificano una quattro corsie Trafano e Grosseto, le bretelle che collegheranno il Monte Feltro, quel territorio che ha subito tanto negli anni passati, tanto che se ne è distaccato in parte e se ne è andato in Emilia Romagna, per collegare i territori del Monte Feltro fino a Sant'Angelo e Invado, quindi da Carpegna a Sant'Angelo e Invado, lungo la Fano e Grosseto, ma anche sbloccare un'altra incompiuta, la Fabriano Sassoferrato, quindi la Pedemontana intervalliva Fabriano Sassoferrato Cagli, Fabriano Sassoferrato Pergola Fossombrone, che giustifica appunto in nome della sostenibilità, perché faremo risparmiare centinaia di milioni di chilometri all'anno ai nostri automobilisti, e quindi si guadagnerà in emissioni di CO2, si guadagnerà in sicurezza, si guadagnerà anche innescando processi di sviluppo economico del territorio. Dicevamo, la Regione Marche sta lavorando anche agli studi, alle progettazioni di queste due bretelle, che giustificano appunto una Fano e Grosseto a quattro corsie.